Se questa è la prima volta che aprite la confezione di Simulator Soccer, allora dovrete seguire dei semplici passaggi prima di poter iniziare una partita. Innanzitutto tirate fuori dalla confezione il campo di gioco, che potrete stendere sul vostro tavolo o dove preferite. Si consiglia, solo a questa prima apertura, di passare sopra adesso una spugna per lavare i piatti, ovviamente asciutta e pulita, dal lato morbido, così da creare maggior attrito tra la palla ed il terreno. A questo punto potete montare le due porte, seguendo i passaggi che vedete a video. Per evitare che la rete si sfili potete applicare in questo punto un po' di colla. Applicate poi il velcro adesivo. Infine non ci resta che montare le due squadre. Per farlo prendete i cilindri bianchi, 16 per squadra, ed intorno ad essi attaccate l'adesivo di un giocatore. Ogni giocatore possiede un adesivo per la maglia, da mettere in questo modo, un adesivo per le abilità, da mettere sopra ad esso, ed un adesivo per le caratteristiche, da mettere sotto. Nota che i cilindri possiedono una piccola tacca su uno dei due lati, ma questa è ininfluente per la posizione dell'adesivo, perciò potrà stare sia sopra che sotto. Dopo questa fase vi avanzeranno tre cilindri, due per i guardalinee ed uno per l'arbitro, da montare nello stesso modo. Prima di vedere come iniziare una partita diamo un'occhiata al campo di gioco. Questo è suddiviso in esagoni, detti anche celle, che saranno le caselle sulle quali si muoveranno i giocatori. Dei gruppi di celle delimitano una zona, demarcata da una linea più spessa. Esistono quindi varie zone, la zona di attacco, la zona di cross, le fasce laterali, la zona di centro campo, la zona di difesa e la zona di parata. Per iniziare una partita, dopo aver disteso il campo sul tavolo, è necessario porre tutti gli altri elementi di gioco. Prima di tutto mettiamo le porte in questa posizione. Poi prendiamo i cartelloni pubblicitari e mettiamoli così, intorno al campo, insieme alle quattro bandierine del calcio d'angolo, da porre agli angoli del campo. Adesso è il momento dei calciatori. Ciascuno dei due giocatori prende i suoi sedici calciatori, ne sceglie undici da schierare in campo e ne lascia cinque in panchina, cioè fuori dal campo. Ma come si schierano i giocatori in campo? Potrete metterli ovunque nella vostra metà campo, tranne che sulle linee degli esagoni. Quindi non importa metterli al centro di un esagono, potete anche metterli così o così, senza nessun'altra limitazione, se no di poterne mettere un massimo di due per cella. L'arbitro e i guardalinee hanno un ruolo più estetico, ma in alcuni casi possono essere utilizzati, come vedremo più avanti. Adesso prendete una moneta e fate a testa o croce per decidere chi ha il possesso della palla, ponendo poi quest'ultima al centro del campo. Bene, siamo pronti per il calcio d'inizio. Il gioco si svolge a turni. Ogni turno deve essere eseguito in non più di 20 o 30 secondi, a seconda del limite che preferite mettere. Vi consigliamo, per le prime partite, di usare un timer per contare i secondi passati. La partita viene iniziata dal giocatore che possiede la palla, il quale svolgerà il turno di attacco, seguito poi dal turno di difesa che verrà svolto dall'altro giocatore se il primo non perde la palla durante il suo turno d'attacco, come vedremo meglio dopo. Il turno di attacco si svolge in due fasi, da eseguire in ordine. Fase 1. Giocare la palla. In questa prima fase attiverete, per ora, solo il calciatore in possesso della palla. Tale calciatore può giocare la palla, scegliendo una sola tra le 4 azioni offensive. Passaggio, avanzare palla al piede, tirare in porta o fare un cross. Vediamo queste azioni nel dettaglio. Passaggio. Se scegliete questa azione, vi basterà prendere il vostro calciatore e fare un tocco per colpire la palla. In questo modo. Se la palla, così facendo, termina in una cella in cui è presente un vostro compagno di squadra, allora ottieni il bonus passaggio preciso, cioè hai diritto ad effettuare subito un altro passaggio, o ad avanzare palla al piede, come vedremo a breve. Se nella cella dove finisce la palla ci sono due giocatori, allora questa è del giocatore più vicino ad essa. Ma cosa succede se la palla finisce in una cella vuota? In tal caso i calciatori di entrambe le squadre potranno provare a prenderla, e perciò si procede con quello che è chiamato duello di reattività, che decreterà quale è il calciatore più rapido che possa raggiungere la palla con un movimento massimo di tre celle. Per decidere chi vince questo duello basta seguire questa semplice regola. Vince sempre il giocatore più vicino alla palla. In caso di parità vince il giocatore della squadra in attacco. Nota che puoi decidere di lasciare la palla anche ad un compagno più lontano, basta che questo vinca anch'esso il duello. Vediamo un esempio. Decido di passare e la palla finisce in questa cella vuota. Allora inizia il duello di reattività tra questi giocatori, tutti capaci di raggiungere la cella in meno di tre movimenti. Potrei prendere la palla con questo, che è il più vicino, ma decido di raggiungerla con quest'altro, muovendolo di due, perché è equidistante rispetto all'avversario, ma in parità vince il giocatore in attacco. A questa regola ci sono delle eccezioni da applicare durante questo duello di reattività. Se uno dei calciatori che partecipa al duello aveva toccato la palla, allora in caso di parità vince lui il duello. Se avevi dichiarato un tiro, come vedremo dopo, e la palla termina in una cella vuota nella zona di attacco, allora in caso di parità vince il giocatore in difesa. Se nessun calciatore, né vostro né dell'avversario, è in grado di raggiungere la palla con tre celle di movimento, allora entrambi i giocatori possono muovere, immediatamente partendo dal giocatore in attacco, tutti i calciatori della propria squadra fino ad un massimo di tre celle. Dopodiché si riparte con il normale duello di reattività. Prima di passare alla seconda azione possibile, sappiate che esiste un altro tipo di passaggio, il passaggio filtrante. Questo è un normale passaggio, ma avviene se mandate la palla tra il portiere avversario e l'ultimo uomo. Se tra la posizione di arrivo della palla e il calciatore con cui la avete colpita ci sono più di quattro celle di distanza, allora sarà più difficile vincere il duello di reattività, perché in caso di parità di distanza vincerà, in questo caso, il giocatore in difesa. Attenzione! Nel passare la palla potete rischiare di commettere fuori gioco e viene fischiata la punizione. Questo accade se passate la palla ad un calciatore oltre la linea dei difensori avversari, andando a guardare la posizione dei calciatori stessi e non le loro celle. Se però la palla non passa dalla cella di questo giocatore avanzato, e se quest'ultimo non cerca di prendere la palla, allora si considera fuori gioco passivo e non si fischia la punizione. Vedremo dopo come svolgere una punizione. Avanza palla al piede. Con questa azione potrete fare un tocco, proprio come visto poco fa, e cercare di riprendere la palla con lo stesso calciatore. Per farlo vi basterà vincere il duello di reattività nello stesso modo visto ora. Se, però, nella vostra cella o nella cella tra voi e la cella nella quale volete mandare la palla ci sono uno o più calciatori avversari, dovrete fare un dribbling per poter avanzare palla al piede. Per farlo dovete dichiarare, prima di colpire la palla, che farete il dribbling e poi inizierete, con ogni avversario presente, un duello dribbling contro marcatura. Tirate un dado e sommate al suo risultato la caratteristica di dribbling del vostro personaggio, cioè il numero rosso al di sotto del personaggio. Poi l'avversario tira un dado e somma adesso il valore di marcatura del suo calciatore, che è invece il numero blu. Chi ottiene il risultato maggiore vince il duello. In caso di parità vince chi ha il valore della caratteristica più alto. In caso di ulteriore parità si ripete il tiro dei dati. Se vincete il duello allora potrete avanzare palla al piede e gli avversari nella vostra cella di partenza o in quella tra voi e l'arrivo della palla non parteciperanno al normale duello di reattività. Se perdete il duello la palla passa all'avversario, come vedremo dopo. Nota che durante il duello se vi trovate nella zona di attacco ed il difensore fa uno allora è fallo a vostro favore, con una punizione che verrà battuta a partire dal punto in cui si trova il calciatore che ha commesso fallo. Quest'ultimo tira anche un dado e se fa uno viene ammonito. Inoltre il giocatore che subisce il fallo deve tirare un dado e se fa uno subisce un infortunio lieve, cioè otterrà meno uno in tutti i futuri tiri di dado. Se invece fate dribbling al portiere allora ottenete la possibilità di tirare subito in porta. Tiro in porta. Se il calciatore in possesso della palla si trova nella zona di attacco allora puoi decidere di provare un tiro in porta, colpendo la palla con un tocco, allo stesso modo visto prima, o con uno shot, cioè prendendo l'omino e schiacciando la palla in questo modo. Il tiro deve essere sempre dichiarato, perché se fate gol e non lo avete dichiarato allora il gol stesso non è valido. Inoltre dopo aver dichiarato il tiro il giocatore in difesa può immediatamente fare una scivolata e o opporsi con il portiere. La scivolata può essere fatta da un qualsiasi giocatore in difesa che sia nella cella in cui si trova l'attaccante con il pallone o in una cella adiacente e può essere fatta in due modi. Spostando il calciatore nella cella in cui si trova ma lasciandolo in piedi oppure mettendolo sdraiato ma spostandolo di una cella senza però poterlo spostare nella cella di possesso, cioè nella cella dove c'è l'attaccante con la palla. In caso di eventuale duello di reattività il calciatore che fa la scivolata non vi partecipa. Come si fa invece ad usare il portiere? Se si trova nella zona di parata puoi parare usando l'asta di parata, cioè questa. Montala in questo modo e, tenendo l'asta da dietro la porta e senza far uscire il portiere dall'area di parata, prova a parare il tiro. Se invece si trova in una qualsiasi posizione potete decidere di muoverlo di due caselle, ponendolo poi sdraiato nella cella d'arrivo, volendo anche sulla riga della cella stessa, o di muoverlo di una o zero caselle scegliendo se metterlo sdraiato o lasciarlo in piedi. Se il portiere è sdraiato non potrà partecipare ad un duello di reattività. Infatti, se il tiro viene ribattuto in una cella vuota, allora si procede con un duello di reattività, al quale non partecipa neanche il giocatore che ha calciato. Se invece il tiro viene ribattuto in una cella occupata, allora il giocatore al suo interno si impossessa della palla. Dopo che l'avversario ha fatto una scivolata, puoi anche decidere di fare una finta, cioè di rinunciare al tiro per passare la palla ad un compagno o per provare a fare un dribbling sul portiere, se questo è uscito dall'area di parata per venirvi incontro. Una piccola nota. Se fate un passaggio ed un vostro compagno raggiunge la palla, vincendo il duello di reattività e muovendosi di una sola casella in avanti, allora questo ottiene il bonus rincorsa, cioè può decidere di effettuare subito un tiro in porta gratuito. Cross. Se il personaggio con la palla si trova nell'area di cross, potete dichiarare ed effettuare un cross, colpendo la palla nei due modi detti prima, cioè con un tocco o con uno shot. Non appena dichiarate il cross, l'avversario può opporsi attivando il portiere e o con una scivolata, proprio come visto per il tiro. Prima di fare il cross, potete decidere di tirare un dado. Se ottenete 6, potete muovere di una cella un qualsiasi vostro calciatore nell'area di rigore. Ora potete colpire la palla. Il primo calciatore, avversario o compagno, che tocca la palla, indipendentemente da dove questa finisce, deve immediatamente fare un airshot, cioè porre la palla sopra il calciatore in questo modo e farlo cadere. Così. Attenzione a non colpirlo troppo forte, perché se fa una capriola o fa cadere un avversario, allora è fallo ed il gioco riprende con un calcio di punizione. Se con questo airshot tirate in porta, allora il giocatore in difesa potrà difendersi solo con il portiere. Nota che se la palla entra in porta durante il cross, allora il gol è valido solo se prima la palla ha toccato un calciatore sdraiato. Se la palla non tocca nessuno, si procede con un normale duello di reattività. Ora che abbiamo visto tutte e quattro le possibili azioni offensive, parliamo di cosa succede se, durante un passaggio o un'altra azione, perdete il possesso della palla, cosa che può accadere se il giocatore in difesa vince un duello di reattività. In tal caso il vostro turno di attacco termina, ma prima potete muovere i calciatori della vostra squadra di un numero totale di celle pari a quello che l'avversario impiega per raggiungere la palla. Ad esempio in questo caso l'avversario vince il duello di reattività muovendosi di due celle, quindi potete muovere uno o due calciatori per un totale di due celle. Questo movimento è di minimo una cella, cioè anche se l'avversario in difesa ottiene la palla senza muoversi, potete muovere comunque un calciatore di una cella. Nota che con questo movimento potete fare pressing, cioè potrete provare ad entrare nella cella del giocatore che ha appena preso la palla, ma non potete fare un contrasto, azione difensiva che vedremo a breve. Se, dopo aver svolto la vostra azione offensiva, siete ancora in possesso della palla, allora potete passare alla seconda fase del turno di attacco. Fase 2. Muovi la squadra. In questa fase arriva il momento di muovere tutta la vostra squadra, o parte di essa. Infatti potete scegliere se fare un movimento totale o un movimento parziale. Vediamo in cosa consistono. Movimento totale. Muovi liberamente tutti i calciatori senza palla che ritieni opportuno fino ad un massimo di tre celle ciascuna. Movimento parziale. Muovi in tutto il turno di attacco, quindi anche compreso il movimento per un eventuale duello di reattività, fino a tre calciatori di massimo una cella ciascuna. A seconda del movimento che sceglierete, anche l'avversario si muoverà durante il suo turno nello stesso modo. Se però scegliete di fare un movimento parziale per due turni di fila, allora il giocatore in difesa potrà decidere di muoversi con un movimento totale. Subito dopo aver svolto il movimento, passiamo al turno del giocatore in difesa. Durante il suo turno egli potrà muovere la squadra e, in qualsiasi momento, provare a fare un contrasto per rubare la palla. Gli movimenti possibili saranno gli stessi visti prima, perciò se il giocatore in attacco si era mosso con un movimento parziale, allora anche voi dovrete muovervi con un movimento parziale, mentre se si era mosso con un movimento totale, potete muovervi con un movimento totale, come detto poco fa. Vediamo i movimenti del dettaglio, visto che possono avere delle variazioni rispetto a quelli fatti nel turno di attacco. Movimento totale. Avete, anche in questo caso, la possibilità di muovere tutti i calciatori che desiderate, compreso il portiere, fino ad un massimo di tre celle ciascuna. Movimento parziale. Se il giocatore in attacco aveva fatto un movimento parziale, voi dovete rispondere muovendo lo stesso numero di calciatori di una sola cella. Nota che il giocatore in attacco potrebbe anche decidere di fare un movimento parziale senza muovere nessun giocatore, ma in tal caso avete comunque diritto a muovere un solo giocatore di una cella. Nota che, durante il movimento parziale, il portiere può muoversi gratuitamente di una cella in più, cioè può muoversi anche di due celle considerandone solo una. In ciascuno dei due tipi di movimento potrete decidere di entrare nella cella di possesso, cioè quella del giocatore che possiede la palla, solo con il primo giocatore che muovete. Però potete entrarci solo muovendo quel giocatore di una sola cella. Infatti, se lo fate entrare muovendo di due o tre celle, allora commettete fallo ed il giocatore viene ammonito. Ma non è finita qua. Se entrate muovendovi da una di queste cinque celle, cioè ad eccezione di quella da dietro al calciatore in possesso della palla, potrete entrarci senza problemi. Ma se volete entrarci muovendo dalla cella alle spalle dell'avversario, allora dovete tirare un dado. Con uno, due o tre il calciatore commette fallo e viene ammonito. Con quattro, cinque o sei può entrare regolarmente. Quando un calciatore in difesa si trova nella cella di possesso, allora si dice che sta facendo pressing, cosa che crea difficoltà al giocatore in attacco. Infatti, se durante il duello di reattività il calciatore che ha colpito la palla è pressato da un giocatore avversario, allora tutta la squadra in difesa ottiene l'abilità anticipo. Cioè, se la palla finisce in una delle tre celle davanti ad un giocatore in difesa, egli vince in automatico il duello di reattività e prende la palla muovendosi in avanti di una sola cella. Una piccola nota. Quando entrate in una cella per fare pressing, dovete mantenere una distanza dalla palla di 1,2 centimetri, pari al diametro di un calciatore, rimanendo però sempre dentro la cella. Per calcolarlo potete usare ad esempio l'arbitro, che altrimenti assumerebbe un ruolo esclusivamente estetico. Se vi trovate, in un qualsiasi momento durante il turno di difesa, nella cella di possesso, allora potete dichiarare ed effettuare un duello di contrasto. Se sei entrato nella cella muovendo il calciatore da una delle tre celle dietro al calciatore che possiede la palla, allora devi tirare un dado e puoi iniziare il duello di contrasto solo se ottieni 4, 5 o 6. Ma in cosa consiste questo duello? Il giocatore in difesa tira un dado e somma al risultato il valore di contrasto, cioè questo numero in verde scritto sotto all'omino. Poi il giocatore avversario, quello in attacco, tira un dado e somma il risultato al suo valore di difesa della palla, cioè il numero in giallo. Si confrontano i due risultati e vince il duello che ottiene il numero più alto. In caso di parità vince chi ha il valore della propria caratteristica più alto. In caso di ulteriore parità si ripete il tiro. Nota che se fate un contrasto contro un avversario nella zona di attacco ed ottenete uno con il lancio di dado, allora commettete fallo. Il calciatore che fa il fallo tira un dado e se fa uno viene anche ammonito. Inoltre il calciatore che subisce il fallo deve tirare un dado e se fa uno subisce un infortunio lieve, cioè otterrà meno uno in tutti i futuri tiri di dado. Se il giocatore in difesa vince il duello allora prende il possesso della palla e l'avversario che ha appena perso la palla deve lasciare quella cella muovendo il calciatore di una cella in una qualsiasi direzione. A questo punto il giocatore che ha appena ottenuto la palla inizia immediatamente la fase 1 di un nuovo turno di attacco. Se invece il duello è vinto dal giocatore in attacco allora potete finire di fare i movimenti difensivi con il resto della squadra ma nel turno successivo quel calciatore in attacco che ha resistito al contrasto può avanzare gratuitamente palla al piede facendo dribbling e senza tirare nessun dado. Dopodiché procederà con il normale turno di attacco nel quale però non potrà scegliere nuovamente di compiere l'azione avanza palla al piede. Se durante il movimento parziale riesci ad entrare nella cella di possesso dell'avversario ma decidi di non fare contrasto allora puoi scegliere uno tra i seguenti movimenti aggiuntivi. Sacrificio. Muovi un altro tuo calciatore di una cella. Rientro. Muovi indietro di una sola cella tutti i calciatori prima della linea della palla. Accorcia. Muovi in avanti di una sola cella tutti i calciatori oltre la linea della palla. Dopo aver compiuto il turno di difesa si riparte con un nuovo turno di attacco che sarà sempre del giocatore che lo ha effettuato precedentemente se egli è riuscito a mantenere il possesso della palla. Abbiamo visto che in più occasioni è possibile fare fallo e in alcuni casi essere ammoniti. Quando un calciatore viene ammonito per la seconda volta durante il corso della partita allora viene espulso dal gioco. Se un calciatore fa un fallo da ultimo uomo allora viene espulso direttamente. Per stabilire se è l'ultimo uomo la squadra che difende deve muovere un suo calciatore di tre celle e se non riesce a raggiungere la cella davanti all'attaccante allora chi ha commesso il fallo è l'ultimo uomo. Inoltre abbiamo visto che in alcuni casi i calciatori possono subire un infortunio lieve. Quando un calciatore subisce due infortuni lievi allora questo diventa un infortunio grave. Quel calciatore non potrà più usare nessuna abilità che vedremo dopo e potrà muoversi al massimo di una cella. Quando un calciatore subisce un fallo in ogni caso bisogna battere una punizione. Se siete nell'area di rigore dovrete battere un rigore. Ogni volta che bisogna battere una punizione ogni giocatore prende in mano tutti i calciatori della propria squadra meno il portiere. Poi il giocatore in attacco posiziona in campo dove vuole sei o sette calciatori. A questo punto il giocatore in difesa schiera tutti i suoi dieci calciatori. E infine il giocatore in attacco schiera i restanti tre o quattro calciatori dietro al proprio ultimo uomo e in ogni caso non oltre la metà campo. Nota che di solito in una stessa cella non possono esserci più di quattro calciatori con un massimo di due per squadra. Nel caso dei calci di punizione tuttavia il giocatore in difesa può anche schierare fino a tre calciatori nella stessa cella. Ricorda che ogni calciatore in difesa durante un calcio di punizione deve mantenere una distanza dalla palla di 9,6 cm pari alla lunghezza di tre omini. Per calcolare questa distanza potete utilizzare i due guardaline e l'arbitro. Questo stesso procedimento di posizionamento si ripete anche nel caso in cui la palla debba subire una rimessa dal fondo o se bisogna battere un calcio d'angolo. Terminati i posizionamenti è possibile battere la palla. Battere la palla conta come la prima azione di un nuovo turno di attacco. Quando il gioco è fermo, cioè quando ogni giocatore prende in mano la sua squadra, egli può decidere di fare delle sostituzioni con i suoi giocatori in panchina, fino ad un massimo di tre sostituzioni a partita. Cosa succede se durante un passaggio ad un tiro la palla finisce fuori? Ovviamente valgono le regole del calcio, quindi potremmo avere un calcio d'angolo o una rimessa dal fondo se la palla finisce oltre questa linea, come già detto prima, mentre faremo una rimessa laterale se la palla finisce oltre le linee laterali. Come si fa a battere la rimessa laterale? Il giocatore che la batte deve raggiungere, con un suo calciatore, la palla nella cella in cui è uscita, muovendolo fino ad un massimo di tre celle. Se non riesce ad arrivarci con questo singolo movimento, allora può muovere tutta la squadra. Poi l'avversario fa lo stesso per riorganizzare la difesa ed infine deve riprovare a raggiungere la palla nello stesso modo. Il giocatore che deve battere la rimessa può anche decidere di non raggiungere la palla anche se potrebbe arrivarci con il movimento, così da muovere tutta la squadra e riorganizzarsi per l'attacco. Se, però, lo fa per due turni di fila, allora la rimessa aspetta il giocatore avversario. Poi, quando il calciatore è arrivato nella cella, puoi muovere di una sola cella un tuo calciatore situato nella tua metà campo difensiva. Infine, batti la rimessa con un airshot. Prima di arrivare alla conclusione, vediamo le abilità dei calciatori. Infatti, avrete notato che, sopra ad ogni calciatore, sono presenti uno o più simboli. Il colore di questi triangoli indica le abilità base dei calciatori, mentre questi simboli all'interno degli spicchi rappresentano le abilità pro. Le abilità base possono essere di cinque tipi, suddivise per colore, e ti permettono di avere dei vantaggi a seconda del ruolo del tuo calciatore. Esistono abilità di attacco, in rosso, abilità di fascia, in verde, abilità di difesa, in blu, abilità di passaggio, in giallo, ed abilità di parata, in nero. Ad esempio, questo calciatore ha l'abilità di attacco, che ti permette di fare subito un tiro in porta gratuito se ti trovi in area di rigore e se hai ricevuto la palla con un passaggio o hai avanzato palla al piede. Le vari abilità sono riassunte sul regolamento. Se avete qualsiasi domanda, chiedete pure nei commenti. Poi esistono le abilità pro. Se questa è la vostra prima partita, vi consigliamo di ignorare questi simboli e di utilizzarli solo se siete pratici del regolamento base. Tali abilità vi permettono di fare azioni particolari ed uniche. Ad esempio, questa abilità è detta uno versus uno e vi permette di fare subito un'altra azione avanza palla al piede, se quel giocatore ha ricevuto un passaggio preciso. Anche in questo caso non ci dilungheremo nella spiegazione di questa abilità, che potrete comodamente consultare alla fine del regolamento. Per finire, questo rettangolo nero che trovate sotto ad ogni calciatore ci indica il ruolo del calciatore e la sua bravura complessiva, che può andare da 1 o 4. Ma quanto dura una partita simulator soccer? La durata è quella di una normale partita di calcio, perciò due tempi, con anche i relativi tempi di recupero. Ogni tempo dura 45 minuti finti, ed ogni singolo turno corrisponde ad un minuto finto, mentre nella realtà, come detto, deve essere giocato nel giro di 20-30 secondi veri. Per tenere il conto potete utilizzare un guardaline. Ponetelo ad inizio partita in questo punto e, all'inizio di ogni fase 1 del turno di attacco, tranne quello del calcio d'inizio, dovete muoverlo di una cella lungo questa fascia laterale. Quando avrà fatto avanti e indietro e sarà tornato qua, il primo tempo sarà concluso. Se un giocatore si dimentica di muovere il guardaline all'inizio del suo turno di attacco, allora l'avversario può immediatamente muovere un suo calciatore fino a due celle e, con questo movimento, potrà entrare nella cella di possesso e prendere la palla senza tirare dadi e senza commettere fallo, indipendentemente dalla posizione da cui ci arriva. Il tempo di recupero, invece, sarà variabile e potrà essere al massimo di 5 minuti. Si calcola così, un minuto di recupero per ogni gol fatto in questo tempo, ed un minuto di recupero per ogni due sostituzioni avvenute. Alla fine dei due tempi vince, ovviamente, il giocatore che ha fatto più gol.